a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questa nuova recensione io di solito non mi affaccio molto a parlarvi dei vari blockbuster che so che cosa si aspetta uno che è iscritto al mio canale sì ok arrivano anche recensioni dei vari film anche se non sono horror su le varie piattaforme c'è diciamo la sfilsa di recensioni sui thriller di merda e se o se qua perché so che piacciono a chi mi segue però non sa non sapete che io vedo tanti altri blockbuster ma che neanche ve ne parlo e che so che visualizzazioni già ne faccio poche figuratevi se io parlo di questi film chi se lo dovrebbe mai vedere allora tanti di voi diranno ma scusa ivano ma allora perché sei qua a parlarci proprio di questo blockbuster vi voglio parlare di questo blockbuster perché l'ho visto veramente distrutto da chiunque qua su youtube cioè tutti ne hanno parlato male tutti ne hanno parlato manco fosse sto film del merda soltanto secondo me per attirare l'attenzione e fare figo no vedi ho distrutto l'ultimo capitolo di indiana jones no e stiamo parlando proprio di indiana jones è il quadrante del destino il quinto capitolo della saga film che io attendevo davvero tanto io sono un fan di indiana jones io me li vedevo continuamente quando passavano in tv vi devo dire un po' la verità che col passare del tempo io poi non li ho volto di rivedere più perché li passavano sempre in tv mi hanno rotto un po' le palle però un bel ricordo con indy con harrison ford soprattutto che è uno dei miei attori preferiti quindi rivederlo di nuovo a vestire i panni di indiana jones a me ha suscitato davvero molto molto attese anche ero contento ecco però tante altre persone hanno iniziato diciamo a criticare il fatto che c'ha 80 anni e altre battute e altre stronzate dietro il film che secondo me la gente neanche l'ha visto e che ho letto anche che alcuni dicono eh ma il film è tutto indiana jones in cgi ma quando mai forse i primi 20 minuti di film che ci vuole raccontare giustamente indiana jones prima che ci viene detto questa perché è proprio legato questa storia questa trama qua a questa cosa che gli è successo 30 anni prima quando era più giovane giustamente perché se no non capiamo un cazzo della trama è giusto che lo mettono lì che cazzo ci do lo mette chi c'ha la faccia di son ford perdonatemi non può rimanere sempre uguale ok la computer grafica da fastidio non mi è piaciuta neanche a me però l'ho accettata ho passato avanti non mi so attaccato a quei 20 minuti il film dura due ore e mezza ci si può attaccare a quella scena soltanto perché lui in cgi vabbè abbiamo alla regia non più steve spilber abbiamo alla regia il regista che aveva fatto wolverine l'immortale che mi era piaciuto nel 2013 e aveva fatto anche quel gran capolavoro logan che secondo me uno dei migliori film dei cinecomic in confronto alle altre cacate che ha sfornato la marvel che ancora era sotto 20 century fox e quindi ci abbiamo james mungold anche non solo alla regia ma anche alla scrittura e sime spilberg e lucas film si diciamo che passano come soltanto come produttori questo film parla molto del diciamo dei viaggi del tempo no di questo quadrante proprio del come il titolo del film quindi c'è qua un erison ford ormai andato in pensione fa questo professore e prende sta andando anche in pensione come professore storico e ci viene raccontato proprio la storia di archimede che abitava viveva qua in sicilia a siracusa io mi sono emozionato e ho detto cazzo certe volte veniamo almeno cagati in qualche film americano non viene mai cagata la sicilia almeno per stavolta la nostra sicilia conta qualcosa e ci sono anche delle riprese in italia sia nei tempi diciamo perché è ambientato il film circa il 69 perché c'è lo sbarco del lunario ecco che gli americani riescono a fare quindi siamo nel 69 abbiamo come cattivone perdonati Mads Mikkelsen che secondo voi ma se non gli metti Mads Mikkelsen fai cattivo ma chi cazzo ci devi mettere altro attore che io adoro veramente enorme lui è l'unico personaggio che mi è stato sui coglioni è il ragazzino con il baffetto dio santo tutto il film dicevo perché non gliele togliere sti baffetti del cazzo è Fweb Waller Bridge ovvero questa figlioccia di Indiana Jones che Indiana Jones ha questo amico che prende se voleva uno bene e lui prende e gli ha fatto da padrino a questa ragazza anche lei ha seguito diciamo le orme di Indiana Jones e del padre che era uno dei archeologi eccetera eccetera quindi lei mi sta sui coglioni appena l'ho vista tanti hanno fatto le battute che lei è la sua badante io veramente non l'ho vista mai una volta che l'ha portata a cagare o non lo so asciugagli il culo o il pene non lo so dove cazzo l'ha fatta la badante? non lo so forse avete visto un film alternativo non lo so questi qua questi recensori che vi seguite voi che hanno centinaia la cosa triste è che hanno 500.000 iscritti 400.000 iscritti e buh la gente è così coglione che creda a tutte le cazzate che gli vengono dette da questi fantomatici youtuber che io mi confronto sono un povero disgraziato però almeno non vi dico cazzate non vi invento cose che non esistono all'interno del film quindi Mads Mikkelsen vuole questo quadrano indestino proprio per tornare indietro nel tempo e prendere il posto del Führer non mi avete capito il stizio col baffetto quindi c'è Indiana Jones che cercherà di fermarlo e non andare in mano sua questo quadrano indestino come tutti gli altri film di Indiana Jones c'è sempre un cattivo che vuole sfruttare un potere di qualche reliquia antica per diciamo conquistare il mondo di essere Dio supremo quello che è allora il film sì dura un po' troppo non è noioso a me non mi ha annoiato tante scene d'azione inseguimenti un po' dei inseguimenti un po' strani nel senso una Lapa che forse forse potrebbe andare a 50 qua la cadena si chiama Lapa non so come si dovrebbe chiamare in altre parti del mondo ma è quel sapete quelli ambulanti che vanno a vendere la frutta quel cosino lento che c'ha tipo lo sterzo da moto con tre ruote mi viene in mente come si dice in italiano perdonatemi vi chiedo scusa per chi lo sapesse senza offesa mi lo scrivo qua sotto nei commenti quindi si inizia diciamo a a questa scorribanda di chi scappa prendi prendi lascia e quindi il film si sussegue diciamo su questa linea qua un po' ci va a vedere un po' del passato di indie non tanto perché vi ho detto si concentrerà molto su questo Indiana Jones ottantenne che l'ho trovato sempre più vivo che mai più di altri attori che hanno mi manco un terzo degli anni di Harrison Ford io l'ho trovato veramente simpaticissimo nella parte l'ho trovato al top io tutto questo degrado che hanno detto gli altri ah lui è tutto rincoglionito ma dove forse siete rincoglioniti voi che vedete il film e non ce l'avete un cazzo ha una bella fotografia abbiamo le musiche iconiche di Indiana Jones avrei voluto qualcosa in più sugli enigmi no su questa cosa perché ci hanno poco tempo cioè nel senso che non c'è stata molta attenzione forse però hanno annoiato lo spettatore quindi hanno puntato molto sull'action vero e proprio sparatori inseguimenti eccetera eccetera una cosa che un po' mi ha dato fastidio a parte la computer grafica di Indiana Jones da giovane è prendere la computer grafica in generale ok se mi torni tu indietro nel tempo a Siracusa è normale che me lo fai in computer grafica e io lì mi sto zitto ma se mi stai facendo un inseguimento per strada perché cazzo la strada me la devi fare in CGI o altre cose che stanno nuotando dentro l'acqua perché loro me le devi fare in CGI non me le puoi mettere loro a nuotare cioè si fanno male a nuotare non sanno nuotare non lo capisco perché questo per forza usare la CGI quando anche non c'è bisogno di usarla o mai sembra un escamotage dice mettiamoci la CGI e buonanotte così non la giriamo sta parte quindi questa cosa mi ha dato fastidio come conclusione io avrei voluto che questo film si concludesse veramente ma si lasciano un po' le porte aperte Harrison Ford mi pare che ha fatto 81 82 quest'anno io non so quanto ancora potranno io ci auguro Harrison Ford arriva a 150 anni però fin quando si può andare avanti io avrei fatto una bella chiusura con quinto capitolo invece no perché siccome loro pensavano che avrebbe sfonnato tutto invece non è andata come sperava la Disney ovvero Indiana Jones non ha incassato abbastanza perché è uscito in mezzo a tanti altri film che c'erano i vari Mission Impossible c'era che c'era Jurassic Park non mi ricordo Jurassic World che cazzo c'era poi vabbè sono usciti i vari Openheimer è uscito Barbie sono usciti film davvero pesanti che hanno tolto hanno distolto l'attenzione da Indiana Jones la scorsa è stata davvero un'estate piena strapiena di film e tanti ne sono usciti sconfitti mi viene in mente un Blue Beetle che meritava molto di più invece è andata a finire che non è che ci ha fatto questo gran successo e a me è dispiaciuto perché secondo me è uno dei cinecomic più belli della DC che ha mai fatto e vabbè che devo dire il film io ve lo consiglio l'ho visto su Disney Plus in 4K a Dolby Vision me lo son goduto mi ci son divertito no ok non si tornerà mai agli Indiana Jones degli anni 80 lo sappiamo bene a me è piaciuta anche l'Indiana Jones del 2008 con Sheila Booth mi era piaciuto non l'ho vista cinema altri non è piaciuto e vabbè questo è il mondo ragazzi c'è chi piace chi non piace però l'importante è non inventare cazzate su un film ecco io vi ho detto la mia su cosa ne penso tra punti forti e punti deboli del film io come sempre vi ringrazio fatemi sapere un po' la vostra se l'avete visto e che film avete visto la scorsa estate tra tutta quella marea di filmoni che sono usciti nel senso filmoni blockbuster ecco io vi risaluto se vi è iscrivetevi al canale lasciate un mi piace commentate e io ci vediamo al prossimo video me ne vado ciao 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 Grazie a tutti